Quando ero ragazzina, c'era una signora che si chiamava Paola e si diceva che questa signora aveva la possibilità di tagliare una tromba marina. C'è chi credeva, c'è chi non credeva, ma una volta proprio si è verificato questo tornado che scendeva giù a mare e allora per curiosità l'ho sentito dire e mi sono avvicinata pure a mare. Dove c'era la signora che... Allora lei dicendo una preghiera, aveva le forbici in mano, appena ha finito la preghiera non ha fatto altro che tagliare, la tromba marina è sparita. Sembra una cosa di fantascienza veramente, io ero terrorizzata, proprio impressionata a vedere questo, c'era una bambina che... ma era qualche cosa questa signora. Ora vedo che c'è la preghiera scritta che diceva la signora Lunerì santo, materì santo, mercolì santo, gioverì santo, sabato santo, rinuncia di Pasqua, stacura a mari e casca e qui la somma di Maria, stacura tagliata sia, stacura tagliata sia. E lei con le forbici tagliava. Vi posso dire ragazzi, quello che ho visto io è una cosa... Spuntavano le lacrime, una cosa... è sparita, non c'era più quel tornado terribile che ci faceva paura a tutti.